Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle volte. Ed egli dormiva, ed egli dormiva. Allora accostati su lui lo svegliarono dicendo Signore salvaci, Signore salvaci. Siamo perduti, Signore salvaci. Signore salvaci, Signore salvaci. Uomini di poche fede, perché avete paura. Quindi levato si sgrindrò i venti, ed il mare si fece una grande Buonaccia, i presenti furono presi dal suo cuore e dicevano Chi è mai costrui al quale venti e il mare obbediscono Chi è mai costrui, chi è mai costrui al quale venti e il mare obbediscono Chi è mai costrui